Quando parliamo di case, ci vengono in mente delle ville gigantesche, delle ville pazzesche con giardini, piscina, ma non sempre è così, non tutti la pensano alla stessa maniera. Ecco alcune case, davvero piccole, ma sono comode e interessanti. Questa casetta, costruita con materiali di recupero, è costata a Rachel Ross meno di 8.000 dollari. Sembra appena riuscita dal mondo delle favole e Rachel l'ha resa un rifugio in cui poter scrivere. È difficile non trovare ispirazione in una casa del genere. Questa piccola casa, collocata in bilico su una roccia, ha più di 40 anni e si trova in Siberia. Fu ideata nel 1968 da un gruppo di nuotatori e venne poi costruita l'anno seguente. Poiché dispone di una sola stanza, potrà sembrare poco spaziosa e confortevole, ma è un ottimo rifugio per tutti i nuotatori del lago, alla ricerca di un posto in cui riposarsi. Questa casa, situata sulle montagne pittoresche di Fave in Portogallo, è una casa fatta interamente di pietra, costruita tra quattro enormi macigni. Questa abitazione rustica possiede anche una piscina. Macy Miller è un architetto americano, che voleva una casetta tutta per sé, ma non sopportava l'idea di dover pagare in mutuo. Così, per circa due anni, si è dedicato con passione alla realizzazione della sua casetta dei sogni, costata solo 11.000 dollari. Dopo sei settimane di lavoro intenso, con un budget di circa 90.000 dollari, Steve si è costruito questa splendida mini-casa in Thailandia. Circa due terzi del suo budget sono stati investiti per edificare la struttura portante, mentre i restanti 30.000 dollari sono stati investiti per i dettagli extra e per gli arredi. La casa include un salotto, un'amaca, un laghetto e tutto è stato ricavato da materiali naturali del luogo. La casa galleggiante, progettata dall'architetto Dimitri Marksev, questa confortevole casa mobile è situata su una piattaforma galleggiante, che le permette di rimanere sulla superficie dell'acqua, assicurando un impatto ambientale pressoché minimo e offrendo scenari davvero incantevoli. Questa casa, progettata da un architetto giapponese, si trova su un albero nella splendida città di Okuto, in Giappone. Il fotografo Simon Daly ha speso 5.000 dollari e impiegato 4 mesi per trasformare un pezzo di terreno in mezzo ai boschi in una casa dell'Hobbit. Essa può vandare di un gran numero di dettagli ecologici, fra cui un pavimento di legno, intonaco di calcare anziché di cemento, per le pareti delle balle di fieno, per le murature delle pietre a secco. Inoltre possiede pannelli solari per l'energia elettrica e un raccoglitore d'acqua piovana durante la primavera. La casetta dei boschi, ricavata da un vecchio container, anche se all'esterno non sembra essere molto confortevole, questa casa è la prova di come alcuni materiali di recupero possono essere utilizzati per costruire un'abitazione moderna ed efficiente. L'interno è assolutamente incredibile. La casa moderna ha basso impatto ambientale, il mini comfort è senza dubbio una valida alternativa all'edilizia classica. Essendo costruita fuori sede, non vi sono dunque ripercussioni negative sull'ambiente circostante. Abitazioni homemade Realizzati interamente con materiali di recupero, questi caravan garantiscono un'ottima combinazione tra sostenibilità, trasferibilità e comfort. Mini casa in pietra con attico a due piani Questa piccola casa è decisamente più ecosostenibile rispetto ad altri tipi di abitazione, ma offre anche la possibilità di avere più piani per un maggiore comfort. Mini abitacolo moderno Questa casa sull'albero giace sopra dei paletti, a 4 metri di distanza dal terreno, nel centro di Los Angeles. Casetta in legno a forma di lettera A Dal valore di 1200 dollari, questa casetta di legno, facilmente richiedibile, è perfetta per un weekend nei boschi. Il capanno con attico Immerso tra i boschi e montagne, questo piccolo capanno è completamente sovrastato dall'ambiente circostante. Rappresenta un'ottima eme di fuga dalla vita quotidiana La casa nella foresta giapponese Un architetto giapponese ha costruito questa accogliente casetta basandosi sullo stile architettonico giapponese, con l'utilizzo di materiali locali. Questa casa, anch'essa ecosostenibile, è stata realizzata con un budget di circa 11.000 dollari. Minicasa componibile Un violinista americano ha costruito questo rifugio tranquillo spendendo circa 60.000 dollari nel 2003. Le grandi vetrate offrono una splendida vista del luogo e in più trattengono il calore durante l'inverno. Minicasa con attico in vetro Nonostante assomiglia a una serra, questa casa è situata sulla costa californiana, costruita da un architetto americano, a una finestra removibile, che aiuta a mantenere il luogo fresco. L'architetto de Pauli del Minnesota progetta abitazioni che sembrano prese in prestito da una foresta magica. Questo capanno, costruito con tronchi d'albero, è stato realizzato dall'architetto Hans Lieberg e si trova nei Paesi Bassi, facilmente confondibile con l'ambiente circostante. L'interno presenta un design minimalista e artificiale che crea un forte contrasto con la bellezza rustica e selvaggia della natura. Questi capanni costituiscono un altro tipo di casa mobile. Potrete decidere quale modello scegliere, quattro spazio occupare e tanto altro ancora. Sono facilmente trasportabili e consegnate direttamente a voi una volta costruite. La casa nel silos. In media, queste case alternative al risparmio energetico occupano dai 160 e 190 metri quadri di spazio abitabile. Alcuni architetti dell'Arizona hanno però congiunto tre silos, creando un'unica dimora. L'architetto Kiyosuke Kawaguchi di K2 Design ha costruito tutta una serie di spazi abitabili nel bel mezzo di alcuni alberi molto alti nei pressi della città di Yonago in Giappone. Questo mini residence è dotato di stanze collegate fra di loro, attraverso piccoli passaggi ed è immerso nella natura. Capano estendibile Progettato alla Cavaco Park di Phoenix, queste bellissime case sono costruite su ruote e sono adatte per ogni eminenza ludica. Mini abitazioni a pannelli solari Halo è un agglomerato di mini case di 190 metri quadri, progettato da Altena. Team Sweden, un gruppo di 25 studenti della Sweden University. Le case sfruttano l'energia ricavata da pannelli solari e sono interamente fatte con materiali riciclabili. Per uno stile di vita ecosostenibile, i pannelli fanno da contorno sulle pareti esterne e fungono anche da tetto. Ecco casa verticale, questa abitazione giapponese salva spazio non è solo abbastanza economica da poter soffrire di un budget di solo 15.000 dollari, ma lascia addirittura una piccola impronta ecosostenibile se paragonata alle abitazioni classiche. Ok ragazzi, anche questo video è finito, grazie per essere rimasti con me fino alla fine, vi invito a iscrivervi al mio canale, a guardare gli altri video, a mettere un bel like. Ci vediamo alla prossima, ciao! Grazie a tutti!